Viaggio Gianni, professionista di ciclismo, una bici fatta a mano in carbonio in Francia non poteva che venire qua a completare questo connubio, particolarissimo grazie a una novità assoluta mondiale siamo riusciti a realizzare un plantare in polio eretano espanso su misura inserendo il carbonio ad esse per ottimizzare sia la stabilità laterale ma soprattutto quella in fase di spinta, quando lui richiederà la spinta ad ogni pedalata il carbonio carica energia restituendo stabilità ed energia stessa questa cosa è particolarissima e la cosa più bella è che viene realizzata grazie a questa soletta computerizzata che messa dentro alla scarpa, prende l'impronta non sul rullo, giusto piaggio ma su strada, l'impronta viene presa su strada e sul proprio mezzo dove valutiamo i carichi e il baricentro, destra, sinistra, sulle curve e salite, discese da questo nasce l'impronta che noi già facevamo prima a plantare i bike Giuliani in polio eretano ma alla novità ho detto faremo qualcosa proprio di ultra professionale e unico con il carbonio l'unione di carbonio e polio eretano espanso quindi ecco, questa volta non è una pubblicità per dire da Giuliani o Giuliani ma di un prodotto unico nuovo e che viaggio poi ci dirà nel tempo come andrà quindi grazie a tutti e speriamo di farvi fare ancora più strada di quanto non fa e ringraziamo il dottor Giuliani sempre grazie a tutti grazie